Dottoressa Monteleone, siamo ormai alle battute conclusive di questa campagna elettorale per le elezioni regionali. Lei è candidata a Lars nella lista di Claudio Fava, la lista Centopassi. Quali sono le sue impressioni a pochi giorni ormai dal voto? Devo dire che è stata una campagna elettorale abbastanza entusiasmante. Sono stata in diversi comuni dell'Agrigentino, le ho quasi attraversate tutti. Sono stata a contatto con i cittadini nei vari mercati, dove appunto col contatto diretto mi sono fatta anche e sarò portavoce delle stanze dei miei cittadini. Una campagna elettorale magari dove non è prevasta la comunicazione, però c'è stata. Io ho lavorato tantissimo attorno alla mia candidatura, ci sono anche altri dirigenti, altri attivisti che si stanno dando da fare. Speriamo di vincere questa competizione elettorale. Il progetto per la Sicilia che intende realizzare la lista Centopassi, qual è? Su cosa puntate in particolare? Noi puntiamo sulla riorganizzazione della scuola, della scuola pubblica sul tempo pieno e sull'apertura degli esili nido. Puntiamo anche sulla tutela dell'ambiente, puntiamo sulla tutela della salute e puntiamo anche sul turismo. Un turismo ecosostenibile, sul lavoro, sull'imprenditoria giovanile. I punti sono, il programma è abbastanza articolato e vasto e speriamo di vincere questa competizione in modo da attuare e darne appunto piena attuazione al progetto di Caterina Chinnici.